Ben ritrovati e una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. In apertura di giornale parliamo di turismo perché l'8 dicembre segna tradizionalmente l'avvio della stagione sugli sci nel comprensorio di Neve Azzurra. Abbiamo sentito il presidente del distretto turistico e accanto allo sport sono diversi gli eventi in corso, eventi di richiamo nazionale. Aspettative alte almeno in linea con l'anno passato per questa stagione invernale 2023-2024 nel distretto turistico dei Laghi. Lo riferisce il presidente Francesco Gaiardelli che sottolinea lo sforzo e il grande lavoro dei nostri operatori turistici. L'8 dicembre segna tradizionalmente l'avvio della stagione sugli sci. Le stazioni aperte in questo lungo fine settimana, la parte bassa di Domobianca all'Usentino, la piana di Vigezzo, Riale e Valdo in Valle Formazza, il primo tratto della Seggiovia a Macugnaga, quella che porta all'Alpeburchi. Il circuito di Neve Azzurra funziona, certo, speriamo nella neve, aggiunge Gaiardelli. Parla di un inverno dal punto di vista meteorologico in ritardo di 2-3 settimane. Ricordiamo che sul sito del distretto sono disponibili una serie di webcam per monitorare in tempo reale la situazione neve. Noi come sempre facciamo del nostro meglio per raccontare il territorio. A breve sono in programma nuovi educational, press tour, campagne pubblicitarie, conclude Gaiardelli. Intanto è dei giorni scorsi la presentazione dell'offerta invernale regionale a Piemonte Ski Experience a Londra per il distretto turistico. Un'ottima occasione per raccontare il comprensorio di Neve Azzurra con le sue 15 stazioni sciistiche e la sua offerta adatta a tutti coloro che vogliono vivere gli sport invernali in ambienti montani unici. Sci ma non solo perché questa immacolata può contare anche su alcuni degli eventi di punta del Natale nel VCO che richiamano persone da tutta Italia. Dai mercatini natalizi a Santa Maria Maggiore che proseguono fino a domenica 10 a presepi sull'acqua a Crodo. L'itinerario tra capoluogo e frazioni in Valle Antigorio in questo caso è fruibile fino al weekend dell'Epifania. Ancora tutti gli appuntamenti della grotta di Babbo Natale. E con le nostre telecamere siamo andati sulle piste e siamo andati alla piana di Vigezzo. Grazie alla neve dei cannoni per l'annevamento artificiale e un po' anche di quella cauta dal cielo la piana di Vigezzo ha potuto inaugurare la stagione invernale. Sì finalmente non vedevamo l'ora di aprire al pubblico e direi la poca venuta dal cielo dal paesaggio proprio invernale di questi tempi e sulle piste invece quella artificiale che abbiamo predisposto almeno nella parte bassa del comprensorio e quindi il famoso canalone e il cima 2 siamo riusciti ad aprirli. La piana riserva un po' di piste per tutte le difficoltà però è una stazione che è molto apprezzata anche per la facilità di accesso. Sì direi che la scelta ormai di vent'anni fa degli amministratori locali di fare una moderna cabinovia è quello che consente alla piana di lavorare sia nel periodo invernale che nel periodo estivo perché comunque qui la quota siamo sopra i 1700 metri. La cabinovia è tuttora moderna, è molto comoda e quindi consente di salire in qualunque condizione. Insomma questo è veramente una scelta illuminata, senza macchine, senza nulla, direi un ambiente proprio naturale. La clientela arriva un po' da, non soltanto dalla VCO ma dalle province di Varese, di Milano. Sì la nostra clientela è prettamente della zona Novara-Varese-Milano che molti nostri clienti hanno la seconda casa in valle e questo ci fa piacere che ritornano tutti gli anni e si trovano bene e rimangono affezionati alla piana. Se si vuole investire nel turismo degli impianti a fune bisogna essere lungimiranti e voi alla piana avete ragionato su un ampio spettro, 360 gradi. Abbiamo un bel progetto di espansione degli impianti e anche per migliorare la parte di innevamento per la parte invernale. Dovrebbe cominciare nell'arco di qualche settimana dei nuovi trail per le bici per la parte estiva. Speriamo di ultimare in questi giorni anche una piccola ricettività in quota con sette camere e una spa proprio qui a due passi dal rifugio che gestiamo, il famoso Excel Service che ormai dall'anno scorso ha una nuova veste e cerchiamo di attrarre gente con eventi, serate e poi ovviamente lo sci che comunque come numeri continua a farla da padrone. Omenia ricorda Monsignor Giovanni Gatti, inaugurate una via e una passerella, a lui dedicate tante le persone che hanno voluto rendergli omaggio. È stata una delle figure più care al cuore dell'Omeniesi, tant'è vero che è stata anche data la cittadinanza onoraria. Parliamo di Monsignor Giovanni Gatti al quale questa mattina è stata dedicata la passerella sul Nigoglia e una via. quella che collega, anche questo è un gesto ideale, due pezzi di Omenia, da dove c'è il sacro cuore, l'oratorio e la casa parrucchiale. Un gesto importante questo, di dedicare a Monsignor Gatti questo pezzo di strada. Monsignor Giovanni Gatti è stato per la città, oltre che il prevosto, un uomo che ha saputo accogliere le persone nelle loro esigenze, nelle loro situazioni concrete di vita, portando il suo essere prete in mezzo alla gente e aprendo la pagina del Vangelo della vita, sul tema del lavoro, della preghiera e anche della riforma della Chiesa. Per Monsignor Gatti furono anni intensi, gli anni anche delle contestazioni sindacali, delle condizioni degli operai, nelle quali lui si schierò per il diritto al lavoro, pane e famiglia nel suo stile, nel suo linguaggio di vicinanza alle persone, ma anche di una Chiesa che stava vivendo negli anni del suo ministero di parroco, la riforma del Concilio Vaticano II. Un uomo che si è consacrato al servizio della gente per amore di Cristo nella fedeltà della Chiesa. E questo gli è stato riconosciuto. Prete fino in fondo e uomo di grande umanità, di grande cultura, di grande attenzione. Il suo luogo di comando della vita parrocchiare era la cucina, l'unico luogo riscaldato della casa, dove riceveva tutti per tutte le attività. E ci ricorda questo segno semplice, davvero, che fu un compagno, companis, nella sua povertà e semplicità, dell'essere prete per la gente, per amore di Cristo. Ed ora vi mostriamo la collettiva delle collettive a Villa Simonetta a Verbania, iniziativa giunta alla sua seconda edizione. Ci racconta tutto l'organizzatrice e curatrice Marisa Cortese. Siamo alla seconda edizione di questo evento che ho voluto chiamare Incontriamoci in Villa Simonetta, la collettiva delle collettive. Questo titolo perché incontrarci qui significa, oltre che vedere le mostre allestite, vedere anche l'interno della struttura perché è bellissimo. Tutti gli artisti che arrivano qua e buona parte di quelli di questa edizione vengono da fuori, anche da lontano. Restano tutti stupiti dalla bellezza di questi spazi. Quindi la mia idea è stata quella di ripetere l'esperienza dell'anno scorso, dando a dei curatori diversi gli ambienti vari. Ci sono 11 sale e in ogni sala c'è una collettiva. Quindi ogni curatore ha dato un tema e ha portato degli artisti che, devo dire, sono tutti di livello. Le opere esposte sono tutte interessanti. Andrà avanti per quasi tutto il mese. Noi finiremo nel giorno dell'antivigilia di Natale. Sarà aperta tutti i giorni dal mercoledì alla domenica, dalle 4 di pomeriggio fino alle 7. L'ingresso è assolutamente libero. Consigliamo di venire e di portare i ragazzi, i figli, i bambini perché c'è da vedere tante cose. E per gentile concessione della scuola note romantiche, le opere convivranno, dialogheranno con questi pianoforti antichi bellissimi e il matrimonio ci sembra proprio ben azzeccato. Le immagini del Natale a Stresa tra eventi con Babbo Natale, Mercatini, Palazzo dei Giochi e videomapping sulla facciata del municipio. Stresa la città del Natale con il Palazzo dei Giochi sotto l'albero, unico evento natalizio in Italia con oltre 100 giochi creativi a disposizione. E poi l'incontro con Babbo Natale nel suo studio nell'elegante cornice del Ninfio dei Continenti dove si svolge anche il musical cantato dal vivo. C'è aria di festa nella cittadina sulle sponde del Lago Maggiore dove è in corso il Natale di Stresa con l'organizzazione di Grotta di Babbo Natale. E poi i mercatini e le giostre sul Lungolago e l'ufficio postale. Ancora il suggestivo mapping sulla facciata del municipio fortemente voluto per il secondo anno dall'amministrazione comunale. Un Christmas show che accompagnerà stresiani e turisti per tutte le vacanze natalizie. Le iniziative proseguono in questi giorni festivi e nei weekend fino a Santo Stefano. Fino al 7 gennaio è possibile pure passeggiare sulle alture stresiane per andare alla scoperta dei presepi nelle frazioni. Si tratta di un'esposizione di presepi artigianali, artistici e tradizionali realizzati lungo le vie e negli scorci più suggestivi delle frazioni di Campino, Levo, Magognino, Someraro, Binda, Passera, all'Isola Pescatori e nelle chiese di Carciano e Brisino. Continua anche la grotta di Babbo Natale Ornavasso, un'esperienza immersiva nella natura con un percorso magico nei boschi dei Tuergi, gli alfi di Babbo Natale e l'incontro con Babbo Natale nella cava sotterranea di Marmo. Ed ora una sorpresa per alimentare la giusta atmosfera natalizia. Al Digital Lake Studio di Verbagna è arrivato Nick the Nightfly, la storica voce di Radio Monte Carlo. Non molti forse sanno che Nick è anche un affermato cantante musicista, con una serie di collaborazioni e concerti con artisti del calibro di Quincy Jones, Paolo Fresu, The Yellow Jackets, Mario Biondi, solo per citarne alcuni. Mia Verbagna ha registrato il suo album natalizio, Let's Have a Real Good Christmas, che è uscito proprio oggi e che presenterà il 22 dicembre al Blue Note di Milano con la sua Nick the Nightfly Orchestra. Lo abbiamo incontrato in studio di registrazione. E' un'antiprima, anche questo. Abbiamo anche la copertina già. Mentre sono qua con Alessandro Alberto e c'è anche il grafico dall'altra parte che sta curando il progetto, perché stiamo correndo per chiudere tutto insieme. A parte la parte musicale c'è anche la parte grafica, del CD, i testi, i nomi dei brani. Però sta andando molto bene. Sono molto felice di farla anche qua, in questo meraviglioso studio, Digital Leg Studios, che è un posto dove ho già lavorato, perché ho fatto altri due dischi insieme con The Gallo Brothers. Perché c'è una professionalità e uno studio meraviglioso, con tutto quello che serve anche per una big band. Perché qui porto la mia orchestra e in questo disco c'è anche l'orchestra. Perciò è un posto molto professionale e perfetto per quello che io sto facendo in questo periodo. Un'orchestra con musicisti di altissimo livello, per un effetto, noi abbiamo ascoltato qualcosina. Sì, questo era un po' un antiprima di quello che sarà nel disco, perché nel disco ci sono alcuni brani originali, due brani che ho scritto, anzi tre. Tre brani, uno dà il titolo al disco, Let's Have a Real Good Christmas. Musicalmente intorno a me c'è un'orchestra con cui collaboro da vent'anni. E quest'anno abbiamo celebrato vent'anni della storia dell'orchestra, diretto dal maestro Gabriele Comerio. E a parte Gabriele che scrive tutte le parti, c'è un, come possiamo dire, un gruppo di musicisti straordinario. E la maggior parte, siamo ancora insieme da vent'anni, diciamo il nucleo anche Alessandro, proprio dall'inizio. Quest'anno ha fatto uscire un disco che abbiamo registrato vent'anni fa sul palco del Blu Nord di Milano. E l'abbiamo fatto diventare una versione anniversario, con un bonus track, dove c'è Paolo Freso, Mario Biondi, Sarah Jim Morris, insieme con me abbiamo fatto un pezzo di Burt Bacharach. E sono fortunato di avere una big band così, e avere soprattutto, per la maggior parte, gli stessi musicisti. Ci conosciamo bene, siamo amici e suoniamo, e questo aiuta anche a suonare con persone che conosci. E perciò I'm really happy, sono veramente felice di fare anche questo progetto, perché è la prima volta che faccio un disco dedicato a Natale. Ne ho passato, avevo fatto un singolo tanti anni fa, però a fare un album intero, dove ci sono alcuni classici, tipo White Christmas, riarrangiato a modo nostro, Let It Snow, Winter Wonderland. E poi andiamo sul latino, perché c'è anche una bellissima versione di Feliz Navidad, Pretend. E poi voi avete sbirciato una versione nostra, del pezzo di Mario Biondi, This Is What You Are, che diventa This Is Christmas Time. Perché io con Mario siamo amici da tanti anni, e un anno è venuto in studio con me per un'intervista, e alla fine dell'intervista gli avevo scritto il testo di questo pezzo, dicendo guarda che per Natale è strapitoso. Ed è diventato, invece di This Is What You Are, diventato This Is Christmas Time. Quindi un po' di voglia di emozionarti anche con Natale. Ah sì, oh ma, Natale. La magia del Natale. Infatti, io penso che le canzoni di Natale, se sei anche musicista e non musicista, non puoi essere indifferente alle canzoni, perché fa parte del rituale di Natale. E sono cose, momenti, esperienze che ti portano in dito per tutta la vita. Perciò io sono felice di mettere una parte della mia vita musicalmente in questo nuovo progetto. E poi è un bel momento per stare insieme con gli amici, la famiglia a Natale. E non aspetto l'ora di mangiare i panettoni, il pandoro, tutte le cose buone. E lo presentiamo dal vivo a Bluena di Milano con tutta l'orchestra il 22 e 23 di dicembre. Se siete in giro in quella parte, viene a passare il pre-festività di Natale insieme con noi, la Big Band, che è un'esperienza sentire una Big Band suonare dal vivo. E abbiamo anche delle sorprese anche per questa occasione. Grazie. Grazie a voi, buone feste allora, anche da parte di Alberto e Alessandro che sono qua. Buone feste, auguri a tutti. E ora siamo alle anticipazioni della nuova puntata del Sasso nello Stagno con il nostro direttore Maurizio De Paoli, che vi aspetta come sempre il venerdì alle 20.30, il sabato alle ore 18 e la domenica alle 14.00. Ospite della puntata del Sasso nello Stagno di questa settimana sarà il giornalista Francesco Anfossi, autore di un libro che io penso molto interessante ed è dedicato all'OIOR, quindi diciamo luci e ombre della banca del Papa dall'origine fino a Marcinkus. Già il nome Marcinkus credo che ha molti, come dire, susciti quantomeno curiosità e interesse. Anche perché l'OIOR, noi siamo stati un po' ad abbinare questa sigla ad una vicenda di intrighi e purtroppo anche di drammi. Pensate soltanto a Roberto Calvi, il padre padrone dell'Ambrosiano, finito impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri, che c'entra molto nella storia dello IOR. Ecco, quindi noi però cercheremo di ricostruire questa storia non sulla base della leggenda nera e dello scandalismo, ma sulla base di una ricerca fatta in archivio, fatta ascoltando i testimoni diretti, che è quello che appunto ha fatto Francesco Anfossi, che è qui nei nostri studi per questa puntata. L'appuntamento quindi a fra poco al Sasso nello Stagno con il giornalista Francesco Anfossi. La pagina sportiva ha sorteggiato a Macugnaga nei giorni scorsi il calendario dei campionati europei di calcio per i comuni di montagna, che si terranno nella Perla del Rosa il prossimo anno dal 20 al 23 di giugno. Sarà Austria-Germania ad aprire giovedì 20 giugno 2024, alle ore 16 a Macugnaga, l'europeo di calcio amatoriale per paesi di montagna. L'Italia, campione in carica, debutterà invece alle 19 contro la Svezia. Nel girone B con gli azzurri ci sono Svezia, Svizzera e Francia. A completare il girone A con Austria-Germania sono invece Inghilterra e paesi bassi. Questo ha decretato il sorteggio dei Bergdorf M 2024, torneo ormai giunto alla quinta edizione, che si gioca ogni quattro anni come ente prima degli europei e delle nazionali maggiori. Ma qual è l'obiettivo dietro all'organizzazione di un europeo dei paesi di montagna? L'obiettivo è che vorremmo fare conoscere i nostri paesi di montagna, non solo il nostro, ma il nostro territorio. E poi che il gioco del calcio si sa porta gente, quindi ci sono tifosi ma sono turisti che vengono e quindi si spera che tornino agli anni a venire in vacanza perché gli facciamo conoscere un po' la nostra zona. I giocatori sono tutti qua della zona, non devono essere professionisti, ma ne abbiamo pochi, quindi non c'è problema. Però loro si divertono e poi è anche bello sentire suonare l'inno, come è stato a Zermatt che abbiamo proprio fatto un figurone, abbiamo vinto tutto, abbiamo vinto il trofeo, il miglior portiere, il miglior attaccante, la Coppa Disciplina, insomma abbiamo vinto tutto, quindi speriamo di ripeterci. Perché si è scelto di fare proprio un campionato europeo dei paesi di montagna? Era sempre i turnamenti ufficiali nelle città e questo abbiamo detto. Deviamo pensare anche alle montagne, alle persone, agli abitanti delle montagne e facciamo le storie naturali, sempre avanti il torneo ufficiale e speriamo di fare qualcosa per la solidarietà. Sicuramente parecchi della scorsa edizione ci saranno, vediamo in che condizioni sono, ancora è presto, magari a marzo vediamo di convocarli. È troppo presto quindi per fare nomi? Sì, sì, prestissimo. La maggior parte ci saranno quelle di Zermatt perché sono vincitori, vediamo poi chi c'è, chi non c'è, non è facile esserci sempre, quindi vediamo come vanno le cose anche nei campionati nostri minori. A Varso è stata presentata la stagione 2023-2024 dello Sciclub San Domenico. In occasione della presentazione della stagione sciistica 2023-2024 che vede ai nastri di partenza oltre 25 atleti tra attività agonistica e preagonistica, sono state consegnate alla Torre di Varso le nuove divise dello Sciclub San Domenico in collaborazione con San Domenico Ski. Alla consegna rappresenta anche Bruno Stefanetti, sindaco di Varso. Ovviamente mi complimento innanzitutto con il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutta l'organizzazione del nostro Sciclub per l'attività che portano avanti con grande impegno, con grande volontà, con grande maestria perché il riuscire a tenere in piedi questa bellissima organizzazione che ormai è centenaria a Varso e che si va sempre rinnovando con i risultati che riescono ad ottenere con l'adesione soprattutto di ragazzi, di famiglie, di giovani che vogliono fare dello sport una loro impostazione di vita credo che sia estremamente importante. È una stagione che parte con i buoni auspici, quest'anno supereremo i 26 atleti tra agonisti e preagonisti, abbiamo una stagione ricca di attività con le gare di circuito, le indicative fuori zona fino ai campionati regionali che lo Sciclub condurrà con i suoi atleti. Quest'anno presentiamo in questa serata in particolare l'occasione per la presentazione delle nuove divise, nuova divisa che dopo anni lo Sciclub si rinnova anche dal punto di vista della divisa istituzionale degli atleti. Una piccola particolarità legata al fatto che oramai dallo scorso anno ma quest'anno è consolidata pienamente abbiamo con noi anche le ragazze della Pallavolo il gruppo parzese dell'attività di Pallavolo che sta sotto legge dallo Sciclub sta conducendo un campionato direi con ottimi risultati e quindi ci fa molto piacere perché coinvolgiamo un'altra ventina abbondanti di ragazze tra l'altro alcune sono anche atleti sia dello Sciclub che della Pallavolo e quindi sicuramente per noi che facciamo volontariato su queste attività avere così tanti ragazzi che fanno attività sportiva è sempre un segnale importante e un piacere e una soddisfazione. Chiudiamo con il tennis tavolo nei giorni scorsi a Villa Dossola i campionati nazionali e regionali a squadre. Penultima giornata di andata casalinga del tennis tavolo che non sorride le formazioni due mesi con sei sconfitte su otto incontri. Passo falso in B2 nazionale per tennis tavolo Osola 2000 Balaviot-Gastropub 4-5 risultato finale contro l'ultimo in classifica Trezzano mentre in C1 nazionale tennis tavolo Osola 2000 Mokavit esce sconfitta nettamente contro la capolista romaniano. Squadra che passa al quarto posto in classifica previa degli altri risultati di giornata. In giuno regionale tennis tavolo Osola 2000 Ristorante Terminus conquista il terzo posto grazie a una convincente vittoria contro Novara mentre in D2 la formazione di casa viene sconfitta di misura da Baveno e raggiunta al secondo posto in classifica proprio dai lacuali. Nello stesso girone invece ottima vittoria in Chiave Salvezza per tennis tavolo Osola 2000 Molino San Giorgio contro il romaniano. Passando alla D3 regionale le formazioni di casa vengono sconfitte da Baveno e Novara mentre non basta una grande prestazione a tennis tavolo Osola 2000 Junior per avere la meglio il suo leggio. Si dice soddisfatti in generale dell'andamento della stagione il presidente Marco Calella che racconta alcuni degli appuntamenti extra campionato che vedranno protagonista l'associazione. Avremo in programma a febbraio una prova del campionato dei predeterminati regionali si chiamano sono tre prove a livello regionale che servono per qualificarsi ai campionati italiani. La ospiteremo noi qua la terza prova a fine febbraio poi avremo un torneo open che è aperto anche alle altre regioni d'Italia ed è un torneo molto più grosso quindi ospiterà quasi 200 iscritti sarà a fine maggio proprio prima dei campionati italiani. E poi un torneo di ragazzini il circuito piemontese famosissimo perché sono 36 anni che funziona ed è quello che ci dà il futuro dei nostri ragazzini che molti sono finiti anche in nazionale che ospiteremo noi la quinta prova a metà febbraio. Siamo in chiusura vcoazzuratv.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata. Grazie a tutti.